Ad Altamura molti commercianti sono in subbuglio per la nuova regolamentazione sull'imposta per la pubblicità da cui discendono degli obblighi soprattutto per quanto riguarda le insegne di esercizio. Ci accoglie la Confcommercio di Altamura con la sua presidente Tonia Massaro che negli giorni scorsi ha incontrato l'amministrazione comunale. Riusciamo a fare un po' di chiarezza e a spiegare ai commercianti e agli esercenti quali sono i loro obblighi e i tempi per adempiere. Allora buongiorno grazie per avermi coinvolta in questa cosa. Io voglio dire che ho incontrato l'amministrazione non per le insegne ma avevo lamentato la mancanza a volte di collaborazione e di comunicazione che c'è tra le associazioni di categoria e l'amministrazione in un incontro a Bari dove avevamo invitato l'amministrazione sulla nuova regolamentazione della Bolkestan sugli ambulanti. Ho incontrato l'assessore Blocapo e il dirigente Bonamassa e in quella sede diciamo che ho lamentato questa mancanza di comunicazione soprattutto in merito alla questione delle insegne dove il regolamento è stato fatto addirittura ad ottobre. Non è chiara la cosa, molti utenti si sono rivolti anche agli uffici competenti e non hanno avuto nemmeno da questi uffici chiarezza. Nel frattempo è partita una campagna di controllo da parte dei vigili urbani e questo ha provocato e scatenato il panico. In quell'occasione il dirigente Bonamassa si è reso disponibile ad incontrarmi tant'è vero che loro stanno approvando il regolamento dei Deors ed è stato così gentile devo dire di mandarmi in anteprima una bozza per poi discuterle insieme. Io ho coinvolto anche gli altri colleghi delle altre associazioni di categoria e nella settimana scorsa abbiamo avuto un incontro presso il comune dove c'era anche l'assessore Perrucci, una serie di consiglieri, il dirigente Bonamassa. In quell'occasione io ho ripreso il discorso delle insegne dicendo guardate non si può andare avanti così, noi abbiamo bisogno di chiarezza, abbiamo bisogno che ci sia un referente, magari facciamo un incontro informativo con tutti, noi ci siamo resi disponibili come associazioni di categoria a fare l'informazione presso tutti gli operatori per far sì che ci sia un periodo per regolamentare, per regolarizzare il tutto perché per anni non abbiamo avuto un regolamento, c'è una giungla e sicuramente vanno messe dei paletti perché ci sono delle cose improponibili, però adesso andare esercizio per esercizio a fare queste pressioni e la gente non sa neanche che cosa deve fare, si è rivolta agli uffici competenti, non ha avuto delle risposte adeguate, io ho chiesto che ci venga indicato qualcuno che possa dare almeno a noi delle risposte certe, noi faremo in modo che ci sia informazione verso tutte le attività e tutti coloro che poi devono fare le dovute richieste e pagare quello che devono, dopodiché si parte nell'attuare questa cosa, fatta così come è stata fatta a mio avviso non è possibile, per cui io ho mandato una mail a tutti i miei associati dicendo di avvisarmi se gli venivano fatti dei verbali o anche delle visite da parte dei vigili, abbiamo chiesto che vengano sospese queste visite, nel frattempo noi ci faremo carico insieme all'amministrazione di fare la dovuta informazione e poi regolarizzare il tutto e andare avanti per far applicare la legge, noi non vogliamo che la legge non venga applicata, però in un momento così difficile anche per tutte le attività, sapete bene che stanno tutti con l'ossigeno, non possiamo andare nelle attività senza che questi ne sappiano nulla, perché non c'è stata informazione alcuna, noi addetti al settore non sappiamo, io mi sono rivolto a qualcuno, non ho avuto le risposte che dovevano essermi date, per cui abbiamo solo chiesto che ci sia qualcuno che ci informi, che ci spieghi anche questo regolamento così come deve essere applicato e gli esercenti non hanno difficoltà a mettersi in regola. Risulta che ci siano state già delle sanzioni? Io francamente, sicuramente ci sono state una serie di visite che hanno anche molto allarmate, a qualcuno è stato detto che l'ammenda era di 540 euro, una cosa del genere, è stato chiesto di fare un'autocertificazione che mi auguro che nessuno faccia perché non sarebbe nemmeno legale, nemmeno giusta farla, perché la gente poi deve rivolgersi al tecnico, deve fare le cose fatte bene, per cui io ho detto a tutti di non firmare nulla, di non fare nessuna autocertificazione, capiamo bene prima che cosa dobbiamo fare e poi faremo le cose così come si fanno. Il regolamento va rispettato, guardiamo anche se ci sono delle variazioni da poter apportare al regolamento perché l'hanno approvato senza confrontarsi con nessuno di noi e forse queste cose vanno fatte a monte. Farle dopo è un po' più difficile, l'importante però è volerlo. Se c'è la volontà dell'amministrazione, la nostra volontà è quella di far rispettare le regole purché non vadano a ledere nemmeno i nostri diretti in un momento economico così difficile. Tutto qui. E dunque siccome è un tema molto sentito in questo periodo ad Altamura andremo ad ascoltare anche l'amministrazione comunale e anche i diretti interessati, cioè i commercianti e gli esercenti.